Siamo informati di sentimenti elevati, ma non di questo tipo giuridico, ancora confuso, perché il campo giuridico non siamo molto esplorati. E quindi questo anche mi ricorda di pazzo, non ce l'ho fatto, sto rendendo segno, devo dire che un po' mi ha aspettato, non l'avevo fatto pensare, quindi io sono un tipo che di solito non si accorgia molto, quindi sono un po' abbastanza tranquillo, abbastanza stretto. Oggi Giovanni ha parlato di Dio Greta con una volta al sciocchio, un ufficio, dicendo che sono persone che si devono, lo ho scritto sempre a farsi salvare, credo che un'occasione così permessi da ideale, cioè una persona che vuoi, se avevo qualche spazio di autonomia, adesso proprio niente, bisogna che di ritornare sempre il vostro, quindi consegnarvi i nostri consigli, i nostri conforti, le nostre protezioni, che è un'occasione, quindi mi ritornare sempre qui è un'occasione che si parla di me, quindi io sono un'occasione, quindi sono un'occasione e un'occasione. Grazie.